Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa del Centro Sportivo GB Fabri per la conferenza pre-partita di Regina Spal. Qui con noi Mr. Daniele De Rossi, prego per le domande. Buongiorno Mr. Alberto Benazzi, Radio Lucevita. La prima domanda naturalmente è come l'atmosfera negli spogliatoi inizia una nuova avventura, un giorno di ritorno che sarà sicuramente difficoltoso. Ecco, qual è l'atmosfera, dicevo, negli spogliatoi e qual è il clima in cui state lavorando? E' sempre quella sorta di equilibrio che non dobbiamo rompere, non dobbiamo andare né troppo su, né troppo contenti perché quintultimi, sestultimi in classifica, solo gli scemi sarebbero contenti di esserci, né andare in depressione, uno perché c'è tutto il girone appunto di ritorno davanti e due perché con la tristezza, con la negatività non si lavora bene. Abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno avuto parecchi giorni di vacanza, si sono tornati, hanno fatto spesso e volentieri doppio, abbiamo lavorato forte i primi giorni e poi insomma incalando a livello di impegno fisico negli ultimi giorni ci siamo un po' più soffermati su quella che è la preparazione gara, ma insomma cose molto simili a quelle che abbiamo fatto nella prima parte della stagione, solo che abbiamo avuto 10-11 giorni invece che 5-6. La Regina è un avversario tra i più pericolosi di questo campionato, in che modo pensa di affrontare la Regina? Viso aperto oppure una spalla un po' più prudente come abbiamo visto a Parma? Una squadra che ha più punti del Parma, quindi ha dimostrato finora di essere più forte del Parma. Forse il Parma come individualità, l'abbiamo visto anche a Sanzino nella partita contro l'Inter, non è inferiore assolutamente né alla Regina né a nessun'altra squadra della Serie B, però evidentemente la Regina se ha fatto questo campionato di vetta ha qualcosa in più di noi, ha qualcosa in più del Parma, quindi grande rispetto, rispetto delle caratteristiche dei giocatori della Regina, soprattutto degli attaccanti, delle due mezzali, del centrocampista, però insomma senza andare a fare una partita troppo difensiva come abbiamo fatto a Parma, che inizialmente non era la nostra idea, ma era l'idea di fare una partita accorta, intelligente, ma non così tanto schiacciata verso il basso. Buongiorno mister, ben ritrovato, adesso dovete andare a Ferrara. Innanzitutto le chiedo se al netto degli squalificati ci sono indisponibili e se eventualmente nelle sue convocazioni terrà conto di determinate situazioni di mercato, se magari qualcuno non verrà con voi. Qualcuno non verrà con noi, però vediamo insomma di capire anche come verrà sviluppata alcune faccende di mercato e che non abbiamo certezze ancora, quindi tutte le notizie in divenire, quindi non so ancora come commentarle, vediamo nelle prossime ore. Ovviamente le devo chiedere un'opinione sulla vicenda Esposito, sia sulla cessione dal punto di vista tecnico, sappiamo quello che pensava del ragazzo e anche ovviamente c'è stato il risvolto comportamentale, visto che è stato citato anche lei, ci tengo a sapere come la pensa. E tu ci tieni a sapere come la penso, ma io non te lo dico perché io devo parlare dei giocatori che sono qui e di quello che possono fare domani. Posso parlarti di quello che pensavo di Esposito, lo sai, è una partenza dolorosa perché comunque è un giocatore forte, è un giocatore importante per la categoria, è uno dei più, tra i clienti più ricercati che c'erano tra i giovani italiani, è sicuramente una perdita importante, ma insomma era anche un desiderio suo, quindi non c'è da recriminare nulla né alla società né a nessuno, sono cose, sono percorsi che si terminano in questa maniera, lo sapevamo già da un po' di tempo, e ha fatto una buona transazione alla spalla e lui è andato ad ottenere la Serie A e sono tutti felici, io quasi, e niente, penso che si sia svolta nella normalità delle cose, poi per il resto quello che tu vorresti che io commentassi non lo commento perché non devo distogliere la mia attenzione da quello che è il campo, la preparazione alla partita, quello che succederà domani e i giocatori che sono ancora qui, io faccio un in bocca al lupo gigante a Salvatore, glielo ho fatto in privato, ho affrontato il mio percorso di allenatore di Salvatore come penso che doveva essere affrontato, bastone, carota e in ogni circostanza sempre andando dritto per dritto, che poi insomma è quello che mi contraddistingue un po' da sempre, però per il resto io gli auguro veramente un in bocca al lupo gigante, penso che abbia delle qualità importanti e è giusto che le metta in mostra nel palcoscenico più importante. E invece sulla partita di domani sarà possibile magari rivedere una SPAL a due punte visto che ci sono alcune situazioni magari con le assenze oppure pensa di andare avanti con il vestito delle ultime partite prima della sosta? Qualcosina abbiamo pensato, abbiamo ancora qualcosa da analizzare, qualcosa a cui pensare di calcistico, qualcosa a cui pensare di extracalcistico, quindi stiamo facendo le nostre valutazioni quando fai una formazione ad ottobre e ad aprile, pensi solo a quello che è calcistico, in questo periodo a volte devi anche tenere conto di altri fattori, ma penso che nella stessa situazione ci si trovino anche gli altri allenatori, insomma non solo io. Buongiorno Ministro, Rondino Spallino, il suo esposto non dirà più niente, quindi guardiamo avanti. Su quell'altro che mi dici, ormai è andato lui? No, 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 c'è molta curiosità là fuori nel sapere chi sarà il prossimo capitano, perché attualmente abbiamo visto che c'è stata la fascia Dickman nell'ultima partita, ma... Dickman. Dickman, ok. Dickman di solito si fa, anche quando ero nazionale, si faceva per virgolette ad anzianità, non l'anzianità di anni, ma l'anzianità longevità, come si dice, da militanza in un club, e poi dopo se quello che ha più una lunga militanza non è adatto a fare il capitano perché non è affidabile o per qualche altro motivo, si va a scalare. Dickman mi sembra un ragazzo affidabile, quindi lo farà Lorenzo. Un'altra cosa, per quanto riguarda le scelte di domani, non le scelte di formazione, ma le scelte delle convocazioni, penso di attingere dalla primavera, visto che ci potrebbe essere qualche buco qua e là. Verrà con noi Deme, verrà con noi imputato e potrebbe venire con noi qualcun altro in base allo sviluppo di una situazione. Non ci sono problemi, abbiamo un rapporto filo diretto sia con Vito che con Andrea Catellani, c'è grande collaborazione da parte loro, ma anche da parte mia, so che loro hanno una partita importante contro il Parma, verrà con noi anche Lorenzo Abbati, hanno una partita importantissima con il Parma, quindi sono figlio di uno che ha fatto la primavera per vent'anni e so che se si può dare una mano alla squadra che è sotto ci dobbiamo fare caso, ovviamente ci sono delle situazioni che noi non possiamo rinunciare a rubargli qualche giocatore, perché ovviamente in qualsiasi club la prima squadra viene prima di tutto, però se possiamo dargli una mano e non distruggergli la formazione, la preparazione gara, che magari parte da qualche giorno dietro, lo facciamo, quindi abbiamo preso Deme che è un under 18 se non sbaglio e imputato ci serviva proprio come alternativa. So che ha poco tempo ma vorrei farle un altro paio di domande, se mi è permesso la prima, di mercato per quanto riguarda i dettagli non ci dirà niente e questo è giusto, però visto che è la sua prima esperienza di allenatore, come sta vivendo tutta questa distrazione generale, di solito gli allenatori dicono così, che è un mese in cui non si lavora bene proprio per via di tutto il chiacchiericcio. Si può e si deve lavorare bene, bisogna essere organizzati in funzione di quello che è un mese che distrae, che distoglie l'attenzione della partita, ma chi sta dentro il centro sportivo, non parlo solo dell'allenatore e dei giocatori, deve essere orientato e organizzato in modo tale che queste cose distraggano il meno possibile e organizzato in base a queste cose distraggano e disturbino il meno possibile. Il fatto che io non sia distratto, non sia confuso, è un obbligo mio lavorativo, ma più che altro morale nei confronti dei giocatori, che sono la mia prima fonte di motivazione, di ispirazione e spinta a rimanere qui più a lungo possibile. Perché se loro vanno in campo e gli chiedo di fare un metro, fanno un metro, se gli chiedo di fare 10 chilometri, fanno 10 chilometri, se gli chiedo di farne 20, ne fanno 20. E vi assicuro che in questi giorni sono state più le volte che ho chiesto di fare 10 chilometri, che le volte che ho chiesto di farne uno solo. E l'hanno fatto, e sputano sangue, e c'è gente che sta con la valigia pronta in mano e si allena tutti i giorni, e c'è qualcuno che potrebbe partire, e oggi si fa il viaggio tipo Pechino Express, come facciamo oggi noi per andare a Reggio Calabria, e viene con noi, e ha chiesto di venire con noi, e questo conta tanto, tanto, tanto di più per me. Più di un gol fatto, più di un gol sbagliato, gli esseri umani rimangono, i calciatori vanno e vengono. E quindi io non posso essere distratto, se chi c'ho davanti, che sono il mio pane, i miei amici, i miei sottoposti, se può dire, sottoposti, quelli che mi danno da mangiare, quelli che mi danno le soddisfazioni, e quelli che mi danno il culo ogni allenamento, sono dentro la situazione della SPAL, io non posso essere distratto neanche un secondo, perché io mi alimento solo del rapporto che c'ho con questi ragazzi, che sono incredibili, incredibili, dal primo all'ultimo, da quelli che hanno fatto sempre 90 minuti, a quelli che ho messo qualche volta in discussione, a quelli che hanno giocato bene, a quelli che hanno giocato meno bene. Ho conosciuto i tanti di calciatori, faccio allenatore da poco, patente al calcio ci sono stato da tanto tempo, l'ho visti quelli che, quando leggono sul giornale il loro nome, accostato a qualche altra squadra, iniziano a sentire un dolorino, iniziano ad avere mal di pancia, iniziano a levare la gamba, e qui c'è gente, quando le trattative saranno concluse, magari farò pure i nomi, che potrebbe benissimo dirmi, senti De Rossi, Daniele, a Reggio Calabria, con quattro scali d'aereo, pulma, eccetera, facci te, tanto che l'ultima volta neanche mi hai fatto giocare, e invece vengono con noi, stanno con noi, danno una mano a noi, poi vediamo se giocheranno anche, ma io c'ho un gruppo di uomini che mi impone, di stare sempre dentro questa situazione qua, poi io magari, io sono scarso, loro sono scarsi, le dinamiche calciatore-allenatore prevedono, e loro lo sanno, perché gli dico la verità, anche che si facciano delle sostituzioni, che si cercano giocatori che giocheranno nel loro ruolo, che si cerchino giocatori più forti, perché è più facile cercare tre, quattro giocatori più forti che cambiare l'allenatore, e quello è una dinamica calcistica normale, però posso andare a fare scout in tutto il mondo, uomini meglio di quelli che ho io, non li trovo, impossibile. Quindi questo mi obbliga a stare al 100% con la testa dentro quel campo, e se posso permettermi, anche l'applauso che abbiamo ricevuto dalla curva Ovest, ci obbliga, non solo a me, ma anche ai calciatori, perché è un applauso sincero, perché è un applauso più fragoroso di quelli che abbiamo ricevuto a Parma dopo una vittoria. Dopo una sconfitta, si dice sempre, mai schiavi del risultato, lo dicono un po' tutti i tifosi, lo dicevano i tifosi miei della Roma, andavano oltre il risultato ogni tanto, ogni tanto il risultato era abbastanza importante, come lo è per noi. Vedere che ci viene riconosciuto da parte della curva un impegno, uno sforzo, e anche una prestazione di un certo tipo, mi ha fatto fare le vacanze un po' meno devastato per la sconfitta. La devastazione mi è durata solo un paio di giorni. Si riparte dai giocatori, si riparte anche da quell'affetto lì e da quel riconoscimento lì. L'ultima, poi chiudo. Ha parlato di uomini di qualità. Non posso fare a meno di chiedere una cosa, un po' triste però, che va chiesta, vista la risonanza delle sue parole, di Luca Viali, perché ho visto la clip che ha fatto la FGC e in uno dei fotogrammi di questa clip c'era lui con la torta e lei subito accanto. È un'immagine molto potente e lei ha lavorato con Luca Viali e quindi vorrei chiedere un pensiero sul ricordo di questo grande campione. Le mie parole non hanno risonanza, anche perché sono molto rare. Soprattutto in queste circostanze, io faccio le conferenze stampa perché sono obbligato, perché è il mio ruolo. Non trovo mai particolarmente interessante la situazione di dover ricordare, di dover dire qualche aneddoto legato a me con Luca. È giusto che si parli di Luca, ma è passato tanto tempo e sono state dette le cose giuste su di Luca. Come le erano state dette su Sinisa qualche giorno prima. è uscito fuori l'uomo che è. È vero che quando uno muore sono tutti bravi, diventano tutti belli, biondi e con gli occhi azzurri, ma questo periodo di merda ci ha portato via due persone fantastiche, due persone veramente giganti, come detto di Sinisa, lo posso ripetere per Luca. Luca lo conoscevo da poco, ma è stata una convivenza stretta, forte, intensa, in bolla, perché eravamo chiusi dentro il coverciano, dovevamo stare insieme anche quando non avevamo voglia di stare insieme. Ieri ho sentito delle parole perché ogni tanto gli aggettivi che usano le persone accanto a noi sono più giusti. ho sentito un uomo cortese, un uomo garbato, un uomo elegante, un uomo interessante, un uomo ironico a livelli clamorosi. Tengo con me l'autoironia che faceva sulla sua malattia quando giravamo per Roma con il mio Team Max. diceva che fa freddo, qui rischio che mi ammalo, mi ha detto una volta. Quindi non ne parlo, ci tengo anche a dire che intanto la gente su Instagram mi dice perché non hai fatto un post su Biali, perché non hai fatto rip su Biali, perché non l'hai fatto su Sinisa, perché dovrei fare, non capisco perché, perché devo fare, cioè va bene, va bene farlo, ma non capisco perché non farlo sia un sintomo di poca vicina. Sembravate molto legati, perché non hai scritto Rip Biali ma ha scritto uno? Ci sarebbe da aprire un mondo su come vengono usati i social, su perché vengono usati i social, ho vista pure io la foto di me con la torta, ce l'ho io, ce l'ho, la foto di me e Attilio e Luca che ci abbracciamo prima della finale. Dovevo metterla su Instagram e scrivere Rip. Perché? Oppure, vabbè, comunque questo è tutto un altro discorso mi viene un po' d'amarezza quando parlo di queste persone che spariscono, che vanno via, ma non spariscono nei nostri cuori, nelle nostre teste. Gli è stato toccante rivederci fra di noi in quella circostanza, perché siamo andati a Roma a fare questa messa ed era incredibile come al di fuori di una chiesa eravamo tutti quanti quasi col sorriso a ricordare le parole di Luca, il tipo di personaggio che era Luca e gli insegnamenti che ci ha lasciato giganti. Quindi tutto è stato detto, a volte qualcuno ha deciso di non dire niente perché non reputa importantissimo rendere pubblico il suo pensiero. Lo faccio qui perché in conferenza mi fate la domanda e non dirlo sembrerebbe come se ci fosse qualcosa di strano sotto, ma non ho mai questa spinta di comunicare il mio dolore. Basti pensare che dopo quattro anni non ho mai detto una parola su Davide Astori che era un fratello per me. Alcune cose sono molto intime e se ne può parlare tranquillamente ma non ho questa spinta, questo bisogno di comunicarla. Mi va bene che altri sentano il bisogno ma io non ce l'ho. Tutto qui. Grazie. 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 Grazie.